Ora abbiamo il 98, il 100 si prepara il 98, il 92, il 91, il 90. Tubo tubo tubo, fino qua tutto è semplice, anche fino qua niente di difficile, fino al numero 6 non è una cosa difficile. Ok andiamo a vedere l'out, 1, vediamo anche qua niente di difficile, e qua cominciano le magagne, 1, 2, 3, 4, combinazione, si blocca il cane, però è buono, andiamo dai che abbiamo il primo netto, seppur non preciso.